Di missioni ritirate si prova ad andare avanti, con quali fondi però e con quanti? Con pochi fondi, che sono quelli della Regione, che non sappiamo quali che sono, evidentemente, e con quelli del Comune, con quelli dell'unico main sponsor che da tanti anni ha sempre appoggiato con un'operazione di mecenatismo lungimirante, devo dire, che è quindi la BIPER, e poi con dei fondi ministeriali che ci sono stati attribuiti per i prossimi tre anni, grazie a un lavoro di programmazione che abbiamo effettuato in questi ultimi anni. Quindi ci hanno visti premiati da questo punto di vista. Quindi è inspiegabile perché la Regione abbia stanziato una cifra così ridicola e irrisibile che veramente è stata una offesa per la città di Lanciano. Adesso c'è da guardare avanti perché non fare programmazione in questo momento significherebbe la fine di questa istituzione. La città ce l'ha chiesto nel 2009, ce l'ha chiesto pochi mesi fa, quando abbiamo riunito il Consiglio di Amministrazione e siamo andati avanti in questa situazione. Io stesso mi sono dovuto assumere degli oneri e degli incarichi pesanti da questo punto di vista. Il CDA lo fa ancora dopo la lettera del Sindaco e dell'Amministrazione e 9.700 messaggi di sostegno e disapprovazione verso l'operato della Regione. Siamo pronti a farlo per non far morire la musica e la cultura e per non far morire un'istituzione che è l'istituzione più importante di formazione periodale o orchestrale probabilmente al mondo. Sindaco, lei ci ha approvato, ha detto in conferenza stampa, però in Regione forse non hanno proprio capito l'importanza dell'estate musicale frentana. Si parla di formazione, si parla di formazione, capo musicale da oltre 40 anni. Sì, basta dire che il direttore musicale della Scala, Riccardo Cialighe, esordì come direttore d'orchestra a Lanciano nel 1976 e io ero lì ad ascoltarlo. Quindi c'è una storia che avrebbe meritato altro trattamento. Mi dispiace perché la Regione Abruzzo con Lanciano ha avuto in questo primo anno di mandato molte attenzioni. Io ricordo i 600.000 euro per la pista ciclopedonabile, i 300 per le tribune dei distinti, i 250.000 euro per la fiera e quindi altri per il 500.000 euro per il dissesto idrogeologico. Quindi questa è stata veramente una scivolata su una buccia di banana che la Regione ha avuto, in particolare il Presidente D'Alfonso, che nonostante le mie sollecitazioni e quelle di Omar Crocetti non ha capito che cos'è l'estate musicale frentana e che cos'è l'associazione Amici della Musica. Ci ha paragonato a una festa di Capodanno e quindi un'offesa, un contributo di 10.000 euro quando gli Amici della Musica hanno sempre avuto negli ultimi anni circa 90.000 euro tra il FURC, che sarebbe il fondo unico regionale per la cultura, e poi un contributo per la manifestazione che è l'estate musicale. Quindi siamo arrivati a cifre irrisorie. Infine, una lettera in cui si parla di fondi, si promettono fondi, però in effetti non c'è un capitolo di bilancio. Ma è una dichiarazione di intenti che la Giunta ha fatto, secondo me, per riparare un errore che poi ha preso consistenza e conoscenza dopo che si sono avute ovviamente delle manifestazioni di protesta vivace, anche mie. Però non è un titolo, non è un credito, è una promessa di ulteriori 20.000 euro, ma che anche nel modo danno proprio la sensazione di una rincorsa a riparare un errore e quindi danno ancora più la sensazione della gravità di quello che si è verificato. Poi non è un titolo spendibile, esigibile. Se si va in banca con quella delibera di Giunta, nessuno ti dà i 20.000 euro promessi.